Amici di Rassegna Metropolitana, mi trovo all'interno della scuola Shlock in un piacevole compagnia di Carmelo Salemi. Ciao Carmelo. Chi lo dici? Anche Carmelo. E stasera abbiamo il piacere di presentare quello che è la partenza di un particolare corso. Intanto è d'obbligo presentarti come un autore e un musicista affermato nel campo di strumenti, che sono degli strumenti particolari, parliamo di strumenti etnici. Il corso riguarda degli strumenti etnici, ma nel particolare di che strumenti stiamo parlando? Sicuramente partiremo da quella che è la nostra identità siciliana, quindi il flauto di canna degli antichi pastori greci. E' uno strumento che si perde proprio nella notte dei tempi, infatti non è un caso che questi suoni sono nati proprio nella valle di Pantalica, quindi nel nostro territorio. Stiamo parlando della più grande necropole d'Europa e già Virgilio ne parlava di questi flauti, di questi pastori che addirittura si sfidavano con questi strumenti proprio agropastorali. E quindi ci piace proprio sottolineare che comunque il punto di partenza è i nostri suoni, quindi i nostri strumenti. Infatti non è solo quello, ci sarà anche il clarinetto di canna, un altro strumento che è quasi scomparso totalmente. Strumento alquanto complicato anche nel modo di suonarlo perché infatti nel corso è previsto proprio tutto un percorso legato alla respirazione circolare. Quindi gli allievi o tutti quelli che si avvicineranno a questo corso si scontreranno anche con questo tipo di conoscenza. Infatti molti fiatisti a volte mi chiedono ma come si fa, come non si fa. E quindi dico a voi appunto tutti quelli che siete così curiosi di accostarvi a questo tipo di conoscenza, vi invito proprio sin da ora a precipitarvi. Poi un altro strumento che farà parte di questo corso è il digerituo australiano. Anche lì c'è bisogno dell'ausilio della respirazione circolare. Poi tratteremo anche il flauto di canna arabo che è il NEI. Questo flauto che addirittura non ha neanche un'imboccatura ma è semplicemente un tubo con dei fori applicati. E poi che dire, lo scaccia pensieri, quindi il marranzano, un altro strumento della nostra tradizione, anche se non è uno strumento siciliano, molti non lo sanno. Ma poi queste cose magari ve le sveleremo, anzi vi lascio con questo mistero. Quindi se siete così interessati, verrete sicuramente al corso e così capirete perché, per come e per quando. Poi ci sarà anche la ceramella, un altro strumento molto utilizzato anche in Sicilia e non solo. Diciamo che abbiamo una vasta gamma di strumenti che per etnici intendiamo etnici legati alla nostra tradizione siciliana e non solo perché comunque hai parlato di strumenti addirittura australiani. Certo, si intende sempre quello strumento peculiare legato a quel territorio, a quell'uso, a quel costume che io spesse volte ho reinventato, ho cambiato. Infatti anche il mio modo di suonare questi strumenti non è così convenzionale. Per esempio col Marranzano mi piace così sperimentare sonorità che non sono legate necessariamente alla nostra terra e quindi anche ritmicamente parlando. Comunque, ripeto, non voglio... Svelare niente, ne anticipo, i curiosi verranno ad interessarsi. È un corso aperto a tutti o occorre una preparazione di base? Sicuramente l'approccio è personale, quindi per ogni individuo io cercherò di spendermi appunto in funzione della persona che è interessata. Chiaramente ci sono vari livelli, quindi è chiaro che per una persona che non si è mai avvicinato alla musica verrà seguito in una certa maniera. Però sicuramente tutti possono partecipare. Sicuramente sì, il corso è aperto a tutti, quindi non ci sono razze, età... Aperto a tutti. Sicuramente è anche un incontro con la storia perché immagino che nell'approcciarsi a questi strumenti si viene a contatto proprio con la storia di questo. Sì, infatti devo dire che al momento Scilocca ha proprio l'esclusiva di questo corso perché non l'ho mai presentato in altre scuole, quindi non l'abbiamo proposto. E quindi devo dire, buon per lui. Quindi l'onore è tutto per Augusta, per la scuola che appunto si trova ad Augusta. E direi che con questo invito non possiamo che congedarci. Da Rassegna Metropolitana è tutto. Arrivederci Jessica Bellistri.